Finisce in polemica il weekend di shopping e spettacolo organizzato dal Cidec, la Confederazione degli Esercenti di Salerno, che parlano di successo oltre ogni aspettativa di un'importante boccata di ossigeno al settore. Un enorme sforzo organizzativo, si legge in un comunicato, ostacolato da un'amministrazione comunale che non ha mai dimostrato vera collaborazione. Alla luce di quanto accaduto, il Cidec chiede le dimissioni dell'assessore alle attività produttive, Dario Loffredo. Ha dimostrato inadeguatezza al ruolo, continua la nota. Un evento così importante è stato dal primo momento snobbato per motivi a noi incomprensibili. Se un assessore alle attività produttive, anziché scendere in piazza e verificare l'andamento della manifestazione, preferisce andare in vacanza con la famiglia, ignorando organizzatori e commercianti, non merita di rappresentare il comparto, scrive la Cidec. I commercianti ribadiscono inoltre la gravissima assenza di vigili urbani su tre chilometri di isola pedonale e spiegano non vi era neanche un uomo della Polizia Municipale. Dobbiamo ringraziare i volontari della Croce Bianca. Infine la vicenda dei palchi, di competenza dell'amministrazione. La Berti pare abbia lamentato problemi nell'organizzazione, costretta a provare mentre il palco era ancora in costruzione. E a proposito di concerti, i commercianti chiariscono che il cachet della Berti è stato regolarmente onorato, mentre il rapper Antonio Riccardi, noto commentò, si è guadagnato una bella denuncia per calunnia e diffamazione dopo aver dichiarato di non essere stato pagato dagli organizzatori. Intanto, gli stessi commercianti di Salerno non hanno apprezzato molto l'iniziativa. Siamo aperti comunque tutte le domeniche e non c'è stata molta differenza. C'era più affluenza di gente, quindi persone che entravano più che altro per guardare. I passanti c'erano, ma davvero poca differenza. Non cambia niente, non come le luci. Le luci portano, secondo me, più affluenza di persone.